Grillo, Giannino, Montezemolo, tutti che danno una loro ricetta, sino ad ora il volto nuovo è Grillo. Montezemolo l'ho ascoltato oggi, si erge, scendiamo in campo, scendiamo, ma lui era la Fiat, la Fiat qualche problema al debito pubblico mi pare ne abbia dato negli anni passati, no! Perché altrimenti dove stiamo andando? Stefano Santarossa e Radicali Friulani. Nel servizio che abbiamo visto prima Giannino giustamente richiama i temi cari e radicali, quelli della rivoluzione liberale, quella di modernizzazione di questo paese, tagliare enti pubblici inutili, questo è il fermare il declino di Giannino, non so se riescerà a farlo, io mi auguro che riesca a farlo Giannino, ma anche per me la figura di Renzi, anche se non andrò a votare, rappresenta comunque uno scossone per il PD, per cancellare quella storia catto comunista che è complice di Berlusconi nello sfascio anche di questi ultimi dieci anni. Quindi ripartiamo da idee nuove che non devono essere necessariamente facce nuove, ma idee nuove significa idee che ci riportino in Europa. Grillo, che citava prima il direttore, propone l'opposto, propone di uscire dall'Europa, cioè ha delle posizioni che sono molto vicine per certi versi alla Lega, ma anche ai fondatori del comunismo. Quindi stiamo attenti, è bene che uno quando va a votare si renda conto effettivamente di quali sono i progetti. Però bisogna spezzare una lancia a favore di Grillo o di quanti parlano dell'Europa in modo negativo. Se l'Europa però rimane solamente un molloc finanziario dove si aiutano le banche e non si aiutano le famiglie, dove si aiuta il sistema finanziario a mantenersi a galla e non si aiuta l'economia, mi creda, preferisco ritornare alla lira anche con le pezze al culo, e così non si va da nessuna parte. Se l'Europa rimane solamente un termine per riempirsi la bocca, preferisco mangiarmi polenta e latte ma star fuori dall'Europa. L'Europa che aveva disegnato Spinelli era un'Europa politica, dove c'era l'elezione diretta del governo politico di un'Europa, quindi andiamo verso gli stati uniti d'Europa. Ah certo, ma non è questa l'Europa che io voglio insomma, una Europa basata solamente sul denaro, sull'euro e basta, il resto di Europa, figuriamoci. Se posso direttore una segnalazione sul mio comune, il comune di San Quirino, c'è un'associazione che si chiama Atletico San Quirino, che è attualmente distrattata dall'amministrazione. Noi parleremo perché ne parleremo poi con l'amministrazione comunale dell'Atletico, avevo invitato anche gli amici dell'Atletico che poi avevano avuto problemi. Conosco tutta la storia e so che... Ebbene andare a fondo e capire dove stanno le ragioni. So che lo metteremo a posto. Grazie a Stefano Santoro.